Per celebrare un anniversario importante come quello del famoso carrozziere torinese, durante la Milano Auto Classica 2020, nello stand ASI, sono state messe in mostra 14 straordinari automobili che rappresentano il passato, il presente ed il futuro dello stile Pininfarina. Si parte dall'immediato dopoguerra con l'Alfa Romeo 6C 2005 SS Coupé del 1949, alla Giulietta Spider, al Duettos di Seppia, fino ad arrivare al fortunato binomio Ferrari Pininfarina, con il quale sono state prodotte le più belle automobili di tutti i tempi. Con Paolo Pininfarina, vicepresidente ASI, Kevin Rice, chef creative official Pininfarina, e Leonardo Acerbi, autore del nuovo libro celebrativo dei 90 anni, presentato in anteprima in questa occasione. A seguire, una coinvolgente ritrospittiva sul design di otto capolavori Pininfarina, illustrata da Massimo Grandi e Giovanni Groppi, della Commissione Cultura ASI. Presidente, ha appena detto, come diceva suo papà 30 anni fa, che dopo 60 anni la Pininfarina era ancora giovane, lo è ancora adesso, cosa è stata Pininfarina per la storia del motorismo storico e cosa sarà ancora? Sì, diciamo, siamo oggi qui a Milano Autoclassica a festeggiare l'ASI, la ripartenza dell'ASI, la ripartenza della Pininfarina, la ripartenza del movimento automotoristico e per quanto riguarda la Pininfarina c'è questo anniversario, questo compleanno, questi 90 anni, che abbiamo voluto valorizzare, succellare, riprendendo il libro Pininfarina, che fu fatto da mio padre nel 1990 per i 60 anni, e estendendolo fino al 2020, quindi la Pininfarina, diciamo, che c'è stata dal 1930 in poi, quindi, diciamo, se l'automobile ha 120 anni, per 90 anni la Pininfarina c'era e la Pininfarina è nata nel 1930 e nel nostro libro si vedono capolavori che restano degli anni 30, 40, 50 e anche del dopoguerra. Ecco, diciamo che la Pininfarina ha fatto la storia dell'automobile, noi vogliamo essere qui tra dieci anni a festeggiare i cento anni della Pininfarina, facendo ancora altri dieci anni di capolavoro come quelli che abbiamo fatto. Erano tanti gli eventi in programma quest'anno per i festeggiamenti dei 90 anni, saranno posposti nel 2021? Un altro anno vogliamo assolutamente riproporre gli eventi più importanti che avevamo in programma. Purtroppo sappiamo tutti che è molto difficile in questo momento dire se un evento sarà fatto all'inizio del 2021 o nella seconda parte del 2021, quindi non mi sento di dire delle date precise, però diciamo che al momento i due eventi che avevamo previsto nella parte, diciamo, centrale della stagione, che erano Torino e Pebble Beach, al momento sono confermati per il 2021. Nei suoi ricordi, nella sua percezione, quali sono le vetture secondo lei che rappresentano un po' le pietre miliardi della storia di Pininfarina? Tre o quattro vetture, chiave? Sì, allora, 632 automobili, non è facile, hanno la selezione, e sono quelle ufficialmente mostrate, perché la Pininfarina ha fatto anche parecchio lavoro non ufficiale. Allora, di questi 632, nel libro già ce ne sono nove, una per decennio, sono un po' le icone del decennio. Mi chiede di stringere il cerchio, lo stringo, allora vado una per generazione, me ne lasci dire una per generazione, che sono tre di quelle nove. Allora, la Cisitalia, come vettura, diciamo che è manifesto della nuova architettura dell'automobile dopo la guerra, vettura che diventa un'opera d'arte, in quanto finisce, al mondo dell'arte moderna di New York, prima automobile di sempre, permanentemente, nel 1960, ed è una vettura del 1947. La Dino 246 GT, che è qui, tra l'altro, presente anche qui in esposizione, che è l'ultima, diciamo, di un filone, che nasce con la Dino Beninetta Speciale del 65, poi la Dino 206, che rappresenta la prima automobile Ferrari fatta da mio padre senza mio nonno. L'ho scelta anche come ispiratrice della Ferrari Sergio, mi sembra che rappresenta lo spirito di una pininfarina giovane. Pensate, la Dino è l'unica Ferrari con il motore a sei cilindri, è talmente particolare che si chiama Dino, come il nome del povero Dino, e quindi è una Ferrari che guarda i giovani, che guarda il futuro. E poi la terza, consentitemi di essere un po' immodesto, ma ho scelto la prossima, cioè l'ultima, che è la Battista, la Battista Anniversario, che abbiamo fatto per festeggiare i 90 anni e che sarà poi consegnata il prossimo anno. Quindi, se mi chiedete perché, le ragioni sono tante. Ecco, perché è l'ultima, perché si chiama come mio nonno, perché è, diciamo, sublima il massimo del design, il massimo delle prestazioni, perché è innovativa e anche perché l'ho fatta io. Senta, saliamo ipoteticamente su una macchina del tempo, magari per l'infarina, arriviamo al 2030. Secondo lei, quali saranno le vetture apprezzate nel prossimo futuro? Beh, sicuramente ci sarà un'evoluzione dal punto di vista delle emissioni. Quindi io penso che la tendenza verso l'elettrificazione e quindi, diciamo, l'alimentazione a batterie o l'alimentazione a idrogeno, penso che ormai sia non solamente inevitabile. Io penso che gli anni venti sono, gli anni venti di questo secolo, cioè quelli che sono iniziati quest'anno, saranno il decennio dell'elettrificazione e probabilmente comincerà anche ad arrivare l'idrogeno, che probabilmente si esprimerà di più negli anni 30, con nuova catena di trazione, vuol dire nuove architetture e quindi tanto lavoro per chi, come l'apine di farina, fa innovazione. Grazie a tutti. Che effetto fa a raccontare dall'interno una storia importante come quella di Peni in Farina? Fa un bellissimo effetto perché raccontare una storia come quella di Peni in Farina significa innanzitutto raccontare una grande avventura, tecnica, stilistica, ma soprattutto umana, perché dietro a ciascuna di quelle automobili, come ha ricordato il presidente, ci sono innanzitutto delle personalità, delle grandi personalità in questo caso, quali quelle di suo nonno, di suo padre e ovviamente la sua. E poi significa ripercorrere in fondo una grossa storia artistica, ancora prima che di automotive o di motore, perché poi alla fine quando anche si pensa alla grande partnership con la Ferrari, ma noi oggi quando guardiamo una Ferrari del passato, con buona pace degli uomini di Maranello, con il quale val grandissimo rispetto, ma oltre a una straordinaria meccanica, vediamo in primis una bellissima linea, e questo glielo si deve agli uomini di Peni in Farina. Qual è secondo te il futuro del design? Il futuro del design non è che sia una cosa che si può esprimere in parole, perché sai che quando facciamo una macchina nuova non è che possiamo indovinare il futuro, si comincia proprio di capire la macchina e così si comincia con il schizzo, poi dopo di che si cresce un po'. Poi dopo, durante questo processo creativo, vengono fuori delle forme sulle carte, e così prendi inspirazioni di quello che hai fatto. Quindi è una cosa che non si può dire è così, è una cosa che si crea proprio da solo. Quindi non c'è mai stato un segreto per creare macchina del futuro, c'è solo una cosa, la creatività e il discorso tra te e le tue idee. Senti, cambia il mercato, cambiano le motorizzazioni, si va verso probabilmente una mobilità sostenibile con l'elettrico. Secondo te quali possono essere i stili e i stilemi delle vetture che saranno le vetture amate nei prossimi vent'anni? In questo momento c'è un grande, grande cambiamento nel mondo della macchina. Quindi in questo momento ci sono tanti che dicono beh allora una macchina elettrica non può avere una calandra, invece ci sono gli altri casi automobilisti che dicono no, io voglio avere una calandra su una macchina di elettrico quindi però in questo momento ci sono pezzi dello stile che praticamente si applicano su tutte le macchine elettriche in questo momento che diventerà nei prossimi due o tre anni un po' troppo banale perché tutte le macchine elettriche avevano proprio lo stile uguale. In questo momento poi noi dobbiamo, anche il pubblico, cominciando di avere la voglia di avere qualcos'altro. Quindi adesso calandra benzina, senza calandra elettrica. Però questo si cambierà nei prossimi due anni. Senti, una domanda personale. Dimmi. Che effetto fa a lavorare in Tini Farina? Mi dà paura perché sai, dopo 90 anni, guardate tutte queste macchine fantastico, iconico, fatto dei geni, fatto dei maestri, devo seguire tutti quei personaggi che hanno fatto delle macchine che erano praticamente, come si dice, adatte la ferma sul mondo della macchina. È una cosa straordinaria, è una cosa unica. E io devo seguire questo, non solo seguire, devo io dare il visione del futuro per i prossimi 90 anni, cominciando adesso. Quindi mi dà paura, questo è vero, però una paura che mi dice, Kevin, non puoi sbagliare. Quindi ce l'ho questo grinta, ce l'ho questa voglia di affrontare questa sfida molto particolare. Grazie al mio team nuovo, sono tutti giovani, sono bravissimi, creativi, e con loro posso affrontare questa sfida. Un'opera firmata a Naga, una storia molto importante, di un design che ha fatto una storia di automobilismo. Parliamo probabilmente del più grande design italiano, riconosciuto a livello mondiale, a livello planetario. Questo libro non è altro che un omaggio ai 90 anni della storia gloriosa, storia della Pini Farina. Per noi è stato un onore, è stato un grande privilegio lavorare ancora con loro, ed è il libro del nostro rilancio, perché dopo alcuni mesi di lockdown, dove non abbiamo prodotto nulla, questo è stato il primo grande libro che ci rilancia sul mercato. Stefano, qual è secondo te il futuro dell'editoria specializzata come questa, come quella che tu curi da tantissimi anni? I collezionisti ci saranno sempre, i grandi amatori ci saranno più, saranno sempre di meno, ovviamente, ma il futuro sarà il nostro compito coinvolgere i giovani e portarli nel nostro mondo. Magari saranno le old timer, non so in che modo, ma il libro fisico ci sarà sempre. Vuoi essere tu un giorno un editore di un libro sulla Naga Editori, sulla storia di Naga? Non lo so, preferirei che lo facesse qualcun altro, però prima o poi faremo un omaggio a papà, sotto forma di libro, perché ha proprio una bella storia, insomma. Quest'anno avrebbe festeggiato 50 anni di attività e quindi siamo ancora, vogliamo fare altrettanto, insomma. Da il suo punto di vista, qual è il futuro del design, del motorismo? Che modo aspettiamo nei prossimi anni? La vedo nera, la vedo piuttosto difficile, perché c'è troppa influenza da parte del marketing. Succede che si tenda un po' tutti a disegnare le stesse cose. Le auto oggi siamo tutti uguali. Il design era molto più libero di proporre, di basta pensare, a parte Pininfarina, a Bertone, che poi dietro ci sono i grandi designer, Scagnone, Savonuzzi della 202, ha disegnato Savonuzzi della 202. Poi Pininfarina gli ha dato questa sua impronta. I design, una volta, avevano molto più possibilità di esprimersi, perché c'era anche più coraggio da parte della casa costruttrice. Cosa racconta il design o il disegno di un autostorico? Il design ha permesso di rappresentare quello che è l'intuizione di alcuni tecnici esperti di questa materia, che da un oggetto singolo, pur ricercato, l'hanno trasformato in un oggetto di desiderio, in un oggetto caratteristico del tempo in cui è stato pensato e ne riporta quello che è l'immagine di quegli anni in cui ha potuto circolare sulle strade. Cioè, in maniera molto arguta, tu hai collocato il design a fattore tempo, collocato nella storia. Secondo te, quali saranno i stili se in qualche modo rappresenteranno le auto da colazione nel prossimo futuro, diciamo, nei prossimi dieci anni? Questa è una domanda molto difficile. Il fenomeno che noi vediamo in giro, che ha tanto seguito delle young timer, che sono le macchine che hanno dai 20 ai 30 anni, insomma, macchine più recenti, che soprattutto appassionano i giovani perché li riportano agli anni in cui hanno scelto la prima vettura, sfogliavano dalla prima all'ultima pagina quattro ruote, per cui in ogni caso sono icone di un periodo che ha portato tante emozioni in tante persone che si affacciavano al mondo dell'automobile. Grazie a tutti!